Ciao a tutti ragazzi, qui parla sempre te e che mi sono benvenuti con la compagnia di Davide Ciao a tutti ragazzi Oggi siamo con un nuovo episodio di Smash of Clans, il secondo Allora, nell'ultima volta abbiamo fatto tante cose, racconta Davide Allora, abbiamo migliorato i muri La defesa aerea La defesa aerea La torre della nostra icone Abbiamo messo la fabbrica degli incandesimi Abbiamo migliorato le caserme a livello 7 Tutte mi sembra, sì Siamo a livello 31 Il castello del clan l'abbiamo migliorato Però Ci hanno buttato fuori dal clan Infatti ci siamo andati in un altro clan Allora, cominciamo Allora, prendiamo le risorse E facciamo un attacco Ollare se c'è Intanto prendiamo questo tronco Questo tronco Mi ho fatto, non posso mangiare il tronco Prendiamo questo si spui Non ti do retta va Dai, qualche battuta ci vuole anche se sono stupide Battuta Allora Andiamo a fare Tutte troppe, tutto acceso Ho visto che fosse 87 aceri e 48 barbari Allora No No Poco 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 Non ti trova niente Qualcuno che ha risorse? Oh Allora Questo qua Poco 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 Peggini di prima Ragazzi Si Questo si Si può scassare Il mortaglio tanto non ce l'ha Allora Mettiamo tutti i barbari d'acqua Il mortaglio lo stava a panno E tutti Gli aceri dietro Eh Dobbiamo distruggere subito questa torre dello stregone Allora L'abbiamo distrutta ragazzi Ci sono volate un poco di barbari d'accede Non importa Noi proviamo a prendere tutte le risorse Non c'è una stalla Due stalle sicure No Sono tre stalle sicure 100% Però sono due però 100% Tutte le risorse prese Non prenda la connessione Finisce l'attacco A posto Con la connessione Ragazzi abbiamo fatto tre stalle Ragazzi vi ricordiamo sempre di Iscrivervi al canale Di lasciare un commento Un like E di iscrivervi Di mettere mi piace alla nostra pagina facebook Che trovate il link in descrizione Allora abbiamo preso pure Il bonus su stella Allora facciamo Prendiamo il bonus su stella Prendiamo il bonus su stella Ci mancano solo le mura da Ci mancano solo le mura da Da potenziale E facciamo un giro Allora 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 E poi le pozioni Che si Usiamo E una che duplica le truppe E una che mette Metti Questa pozione E evoca le schede Il mini drago Il mini drago È come il drago Dal municipio Dal 9 Si E il minatore Invece viene colpito Va sotto terra E viene colpito solo Quando è sopra E puoi sbloccare il livello 10 Minatore E ripresioni Al 9 Quella Di scheletri E l'altro Al 10 Poi vengono miglioramenti I bilanciamenti Il cannone Si può fare il livello 14 Vabbè Mastino No Allora Eh Salutiamo YouTube Eh Salutiamo il clan Che ci siamo dimenticati Salutate YouTube Intanto ci hanno donato Non so chi Ci hanno donato tre Maghi al Sai E tre Ceri al Sai Mai Al livello Sei Mamma mia Allora Abbiamo tre muratori Comunque sei per fare muri Eh Potenziamo Le miniere Le miniere Non abbiamo tante elisir No Non abbiamo tante Abbiamo quasi Un milione Ragazzi Non c'è nessuno Vabbè Andiamo Ma poi si Ah No No Allora Siccome Io non si vede per il clan Che nuova Generalmente hanno Si posso fare anche Amichevo il clan No Meglio una partita normale Che siamo ancora Un po' scarsi Allora Questo no Proprio che si trova Uno che ha tante risorse Cioè Quattro e venti minuti Non siamo male Non siamo male Questo no Proprio che si Ragazzi come poco fa Questo no Questo no Questo no Sicuramente Questo qua no Sembra forte Allora ragazzi Ci possiamo provare Abbiamo i maghi No ragazzi Due mortai Questo qua No Io l'attaccare solo per loro Se non la spieghi troppo Se non la spieghi troppo E' niente C'è niente 75 euro Se avevano 200 e 200 fuori Va bene Magari Capito un po' di Questo va benissimo ragazzi Ma Allora mettiamo del barbari qua Ma capiamo Dei arcieri qua Perché è questo villaggio E Cavoli suoi Noi ci prendiamo No Poteva essere un po' di più Si ci divertiamo Allora Mettiamo tutti i barbari da qua Così facciamo prima Gli accedi Ah Non c'erano gli struttori Gli accedi dietro Le truppe al clan le metti Le truppe al clan le mettiamo Proprio qua le mettiamo Abbiamo questi maghi Maghi fortissimi Un colpo è distrutto Sturgo Devono entrare C'è un'altra cosa che Disturba Si ma Qua le macchine è a livello 6 Ragazzi 3 stelle Qua abbiamo rotto tutto 3 stelle Abbiamo un sacco di truppe qua Le macchine anche sono morti Ma manco toccate Un po' di vita non l'hanno levata Allora In lei che siamo? Siamo altre 150 coppe e prendiamo 450 gemmi 450 Io non mi ricordo Sì 450 Allora facciamo due amore Ragazzi per questo video è tutto Speriamo che vi piaccia E ci vediamo al prossimo Ciao a tutti